Per Monique è un regalo di Natale incredibile, alzarsi dalla sedia a rotelle e camminare. L'olandese Monique van der Worst è un'atleta di alto livello, l'anno scorso ha vinto il titolo mondiale del triathlon. Nel 2008 ai giochi paraolimpici di Pechino ha vinto due medaglie d'argento, ma poi uno scontro fortuito con un altro ciclista durante un allenamento le ha fatto riacquistare l'uso delle gambe. È indescrivibile quello che significa stare in piedi di nuovo dopo aver passato tanti anni su una sedia a rotelle. All'improvviso il mondo assume un'altra prospettiva, tutto sta molto più in basso ed io mi sento molto più alta. È bello camminare in mezzo alla folla e poter guardare tutti negli occhi, è una sensazione incredibile. I medici non sanno spiegarsi come lo shock subito abbia potuto rimettere in moto il suo corpo. La ragazza ne è ovviamente felicissima anche se sa che dovrà dire addio alle sue speranze di atleta.